Abbiamo Caprioni, importantissimo il tuo gol, 42esimo, dopo un primo tempo in cui la Serravezza aveva messo qualche volta, in qualche occasione, in difficoltà. Quindi chiudere il primo tempo con un gol è stata una cosa molto importante per voi, per il proseguo dell'incontro e naturalmente per il risultato finale. Sì, assolutamente. Diciamo che il gol è venuto nel momento giusto. Loro, il primo tempo, sono partiti molto forti. Ci hanno messo in difficoltà in un po' di occasioni e noi siamo riusciti a tenere il cuccio e abbiamo creato comunque le nostre occasioni. Poi siamo riusciti a far gol entro fine primo tempo e dopo ci ha dato una mano ad affrontare il secondo tempo nel migliore dei modi. Abbiamo visto oggi, naturalmente per l'assenza di Barranca e di Altinier, una copia d'attacco nuova, anche se avete già giocato qualche volta insieme. Quindi è cambiato un po' anche il tuo gioco, giocando con Tozzi rispetto a Barranca. Sì, diciamo che comunque noi ci alleniamo sempre assieme, quindi le caratteristiche le sappiamo. Ecco, è normale che con Barra hai più la profondità, con Cristian riesci magari di più a giocare. Con Giampi comunque sai che hai l'alternativa della palla lunga, ti tiene la palla, fa salire la squadra. Insomma, ogni giocatore ha le sue caratteristiche e si mette sempre comunque al servizio della squadra per far sì che tutti rendano al massimo. Quindi oggi io sono contento per Giampi che si è fatto trovare pronto e sono convinto che da qui comunque alla fine sicuramente farà bene e ci darà una mano. Per concludere, il tuo gol non è stato per nulla banale. Non era facile, soprattutto eri in una posizione molto angolata. Siamo stati bravi in ripartenza e poi dopo Buali è stato molto bravo a mettere questa palla filtrante. Io dopo me la sono trovata sul mio piede, ho tirato in porta ed è andata bene. Tutto qua. Quindi il merito comunque è, siamo stati bravi a recuperare la palla, poi dopo il resto è venuto da sé.